Siamo sull'isola di Vulcano dove nei prossimi giorni 7, 8, 9 aprile si svolgerà un'esercitazione nazionale di protezione civile. Questa esercitazione nasce a valle di un percorso di aggiornamento della pianificazione effettuata nei mesi precedenti e legata alle variazioni del vulcano che verrà proprio testata praticamente sul campo nei prossimi giorni attraverso vari scenari operativi che prevedono il coinvolgimento delle strutture operative di tutti i soggetti del Sistema Nazionale di Protezione Civile. Quello che vedete alle mie spalle è il centro operativo avanzato di Vulcano, il luogo dove si esercita l'attività di protezione civile che è stata pianificata in questo periodo con la prefettura UTG di Messina, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile, il Comune di Lipari e tutti i sistemi e componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile, ovviamente col volontariato locale e con quello regionale che viene in supporto in questa attività di estetiva e che è previsto nella pianificazione nazionale, comunale e regionale. Siamo qui nell'area d'incontro indicata da una specifica segnaletica che è stata installata nei giorni scorsi sull'isola di Vulcano. In particolare l'esercitazione che si svolgerà il 9 aprile prevede che la popolazione dovrà abbandonare l'isola seguendo le indicazioni previste nella pianificazione comunale e quindi attraverso l'utilizzo delle vie di allontanamento delle aree di emergenza per regarsi alle aree d'incontro, ovvero il Porto di Levante e il Molo di Gelso, dove ad attendere la popolazione ci saranno i mezzi navali delle compagnie di navigazione privata e della Capitaneria di Porto per allontanare la popolazione dall'isola. Inoltre sono previste due attività specifiche per esigenze assistenziali particolari della popolazione e attraverso l'impiego di elicotteri messi a disposizione dalle strutture operative che parteciperanno all'esercitazione. Il 9 aprile, in occasione dell'esercitazione Vulcano 2022, ci sarà la prima sperimentazione del sistema di allarme pubblico IT Alert. È la prima volta che a livello nazionale proviamo questo sistema basato su tecnologia Cell Broadcast che consentirà a tutti i cittadini presenti sull'isola di Vulcano di ricevere sui loro cellulari questi messaggi che daranno informazioni sulla realtà esercitativa e sulle più importanti norme di comportamento da seguire durante gli eventi.